Un amico ha commentato, non mi ricordo su che social, insomma, dicendo che però dovresti intervistarli Tiziana e Mauro. Eccoli qua! Ciao, buonasera, benvenuta Tiziana! Ciao! Ciao Dario, ciao a tutti! Ciao Mauro, benvenuto! Ciao Dario, ciao Tiziana! Allora, vedo Mauro tra l'altro che sfoggia una t-shirt con un loghino mitico. Sì, te l'ho detto che mi ha costretto l'ornella, prima e ultima volta. Tu di solito appunto non metti le maglie delle gare. No, infatti, non è da me. E invece con una splendida misa estiva la nostra Tiziana, io vorrei cominciare subito con Tiziana, ti faccio rompere il ghiaccio, perché vorrei che ci raccontassi che cosa hai provato, cominciamo dal fondo, che cosa hai provato al traguardo del tuo Embran, dopo aver fatto tutte quelle ore, ovviamente riavvolgiamo il nastro e cominciamo dall'inizio, ma voglio subito un flash della fine, quell'emozione della finish line, come è stata? Grazie. Grazie.